ancora una sfida da non fallire ancora un'occasione per il riscatto trasferta a Benevento di fondamentale importanza per il Palermo di Eugenio Corini chiamato ad una reazione dopo il flop casalingo di domenica scorsa la caduta contro il Venezia ha fatto suonare nuovi campanelli d'allarme ed anche la classifica impone una immediata scossa alla squadra rosa nero la quart'ultima posizione preoccupa e non poco così come il cammino altalenante caratterizzato da sette sconfitte su 14 match contro il Benevento si profila la classica sfida da lotta per non retrocedere con 15 punti la squadra di Cannavaro è a braccetto con il rosa nero ma nei risultati ha mostrato evidenti segnali di ripresa contro il rosa ci saranno alcune importanti assenze come quelle di Caric, Veselio, l'ex rosa nero Glick impegnato nei mondiali in Qatar per ciò che riguarda il Palermo c'è qualche dubbio legato anche al modulo che Corini potrebbe decidere di modificare o almeno trasformare a partita in corso. In difesa Sala e Mateju dovrebbero ritrovar posto sulle corsie esterne con Nedel Cearu al centro in compagnia del rientrante Marconi. A centrocampo Gomes e Segre potrebbero essere schierati insieme a Stulaz mentre in avanti non si prevedono sorprese con il terzetto composto da Brunori di Mariano e Valente. Le parole del tecnico Eugenio Corini alla vigilia della sfida. Ci sono vari aspetti da valutare come arrivano le sconfitte e sicuramente le ultime due ci hanno fatto male ma la squadra ha lavorato con intensità, ha combattuto, ha creato le premesse perché il risultato fosse diverso purtroppo non siamo stati premiati e secondo me nell'ultima partita non solo per responsabilità nostra e dunque la reazione emotiva, la voglia di stare dentro alle partite c'è, l'hanno sempre messa, l'ho vista anche durante questa settimana con la volontà e la consapevolezza di affrontare un campionato difficile che lo è per tutti e la volontà sempre che ogni partita può essere una risorsa per ripartire e dunque l'abbiamo preparata in questo modo.